bello a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e oggi torniamo con un nuovo appuntamento di minecraft signori allora intro con il tavolo all'incantesimi alle nostre spalle non fatto a per puro caso perché signori come potete vedere abbiamo 53 livelli ebbene sì ho ammazzato un bel po di scheletri abbastanza diciamo qui abbiamo dei semi che però non ci servono a una ceppa di nulla quindi buttiamo questi questi semi abbiamo anche delle ossa io ho fatto un po di scorta di frecce perché avendo l'arco senza infinità signori io direi che le ossa le possiamo anche lasciare qua per ora sì diciamo che così se ci serve per il bon meal siamo organizzati e le frecce la scorta di frecce qui c'è ancora spazio no perfetto ma dovrei avere un po di spazio in queste casse se non sbaglio penso sì di sì da queste queste c'entrano dai facciamo così perfetto così siamo organizzati signori però me le metti tutti una vicino all'altra freccia non mi confondo alla signori prima di partire un video io vi ringrazio per i like per i commenti per il supporto che date alla serie vi ricordo di iscrivervi al canale perché l'obiettivo è cercare di aggiungere i 2000 iscritti il prima possibile qui diciamo nel la parte i gatti che dovremmo domesticare in maniera molto carina e coccolosa il villaggio procede abbiamo messo un bell'albero qui al centro scusate voglio grattarmi un attimo i golem spuntano oramai all'interno del villaggio e questa cosa ci piace qui ho messo altri due banchi da lavoro in modo tale che hanno iniziato a lavorare anche loro questo vuole il carbone per smeraldi 15 di carbone per lo smeraldo e poi dovrebbe esserci anche lui eccolo qui eccolo qui se si ferma magari che vuole 24 di carta per uno smeraldo però sono degli scambi fattibili signori perché riusciamo ad avere tutti questi materiali ci riusciamo avere lui cosa per il ripristino voleva 10 smeraldi va bene l'abbiamo bloccato a lui quindi 10 smeraldi sono fattibili signori ma non confondiamoci sull'obiettivo del video di oggi signori noi dobbiamo incantare l'armatura incantare la spada incantare una canna da pesca che non abbiamo signori e la dobbiamo incantare perché così andiamo anche a pesca e vediamo sia per un discorso di pesciolini che dobbiamo portarci a casa sia per un discorso di magari possiamo trovare qualche libro interessante anche anche pescando allora iniziamo tentiamo la sorta e sentiamo la sorta intanto vediamo la spada la spada cosa mi dà la spada anatema contro il colpo affidatezza 3 affidatezza 3 non sarebbe male però preferirei avere anche un po di looting vediamo vediamo gli stivalotti in sostituità protezione da proiettile e protezione 3 protezione 3 non è nemmeno questo male questo protezione 1 protezione 2 protezione 3 come servirebbe respirazione sinceramente protezione 1 protezione dal fuoco protezione 3 direi che questo è già un protezione 3 nella 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 ci aspetti secondo me potremmo andarci va a mettere voi che dite un bel protezione 3 ci potrebbe stare protezione massimo quant'è sapete che non mi ricordo quant'è protezione massimo questo invece a questo punto li proviamo tutti protezione 1 protezione da spese protezione dal fuoco no protezione dal fuoco non mi interessa direi mettiamo questo ci spariamo tre livelli belli così cazzuti protezione 3 e vediamo che succede protezione 3 solo va bene però già già è qualcosa già qualcosa andiamo con l'elmetto protezione dei proiettili respirazione protezione 1 e protezione 3 qua ci serve respirazione 3 signori o il massimo indistruttibilità 2 protezione 2 protezione 3 mettiamo anche qui un protezione 3 e vediamo cosa succede ma si dai niente protezione niente siamo siamo sfortunati se non riusciamo a beccare qualcosa di interessante la spada lama sversante affidatezza 2 indistruttibilità 3 no 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 scarponcini atterraggio morbido 1 protezione 2 indistruttibilità 3 no non ci piace non ci piace affinità all'acqua indistruttibilità 1 protezione 4 protezione 4 sarebbe interessante protezione 4 interessante ma qua ci serve respirazione signori ci serve respirazione indistruttibilità 3 protezione 2 atterraggio morbido 1 allora facciamo una cosa facciamo anche la canna da pesca direi che non è non è per niente male certo protezione 3 non è il massimo però però secondo me poi con già è un punto di partenza diciamo che già è un punto di partenza la canna da pesca mi servono due di questi gli sticchettini ok c'è anche la canna da pesca perché se ci esce importante è tanta roba signori che comunque andando a pesca qualche altra cosa da qualche altro libro secondo me se troviamo una canna da pesca giusta la possiamo lo possiamo la possiamo fare allora metti questi qua vediamo con la canna da pesca cosa ci esce indistruttibilità indistruttibilità e esca 3 esca 3 già è tanta roba anche se fortuna del mare sarebbe pure interessante ma io un esca 3 me lo prendo signori fortuna del mare 3 esca 3 abbiamo la canna da pesca perfetta signori canna da pesca perfetta allora indistruttibilità 1 indistruttibilità che cazzo la dici se è protezione dal fuoco non ci interessa atterraggio morbido 1 indistruttibilità e protezione alle esplosioni non ci interessa veniamo la spada spada contro il colpo indistruttibilità saccheggio 2 ecco già saccheggio 2 mi sta bene saccheggio 2 già è un buon punto di partenza sul quale possiamo poi provare a puntare altro saccheggio 2 contro il colpo va bene e già un punto di partenza signori ci stiamo indistruttibilità protezione dai proiettili e protezione dal fuoco non ci interessa protezione 1 protezione dai proiettili e protezione delle esplosioni no protezione vediamo un libro cosa vediamo anche i libri signori perché comunque i libri sono anche importanti da perché dovremo un attimino anche poi incrementare questi incrementi in grini così incantesimi protezione 1 carica rapida protezione 3 aspettate noi qua una protezione 3 ce l'abbiamo e allora io un bel libro con protezione 3 me lo porto a casa zitti zitti già possiamo fare una protezione 4 che tanta roba protezione alle esplosioni perforazione affidatezza 3 affidatezza 3 da mettere sulla spada non è neanche tanto male vediamo un attimino però se siamo più fortunati qui protezione 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 da proiettili non ci interessa ok con calma atterraggio morbido 1 atterraggio morbido 2 e dammi atterraggio morbido 3 dai cazza roll però aspetta 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 io se non sbaglio ho un libro con atterraggio morbido fermi tutti fermi tutti se non sbaglio ho un libro con atterraggio morbido atterraggio morbido 2 perfetto perfetto signori dai così dai così anche gli stivaletti li abbiamo sistemati atterraggio morbido 2 bang mi ha dato solo quello ma poi ci mettiamo l'altro incantesimo e ci portiamo a casa affidate all'acqua protezione alle esplosioni affinità all'acqua no questa l'abbiamo incantata sì allora vai col libro vai col libro potenza lama sferzante saccheggio 3 saccheggio 2 saccheggio 3 è meglio decisamente meglio decisamente meglio ci portiamo a casa pure questo dai così dai così protezione 1 protezione 3 affinità all'acqua però qui abbiamo un'altra protezione 3 affinità all'acqua no 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 vediamo un libro vediamo un libro vediamo un libro signori potenza 1 protezione 2 protezione alle esplosioni 2 no no e allora mettiamo questo facciamo protezione 1 affinità all'acqua non mi serve facciamo protezione 1 lo mettiamo qui andiamo di qui e lo scarichiamo ci serviva sicuramente signori abbiamo 32 livelli possiamo ancora fare uno da tre eh dammi lo pislazzuli dai così protezione 1 respirazione 2 ok respirazione 2 protezione al fuoco respirazione 2 già è un buon punto di partenza già mi sta mi sta meglio e pigliamo solo quello va bene va bene ok ok non è andata male signori vediamo ora cosa riusciamo a tirare fuori impalamento 2 protezione alle esplosioni potenza 4 ma io qua nel coso già ce l'ho quindi direi vediamo è che devo via dobbiamo prendere un impalamento protezione alle esplosioni non mi serve non mi serve non mi serve prendiamo un impalamento 2 eh vabbè vediamo ora ma quest'ultimo dei libri potenza 1 perforazione 2 protezione dal fuoco non ci serve facciamo un potenza 1 ultimo libro da incantare signori anatema indistruttibilità e aspetto di fuoco eh indistruttibilità 1 indistruttibilità 1 indistruttibilità 1 che secondo me potremmo un attimino anche aggiungerlo allora allora fermi tutti andiamo qui e dobbiamo fare allora indistruttibilità impalamento protezione 3 mettiamo qui questo lo mettiamo qui qua no non me lo fa fare giustamente non me lo fa fare vuole 4 livelli abbiamo protezione 4 sulla chestplate sulla corazza e direi che già è importante signori e stesso discorso dobbiamo andarlo a fare dov'è il mio libro di atterraggio morbido non l'ho preso mamma mia ho avuto un attimo ho avuto un attimino di paura che avessi sbagliato allora atterraggio morbido 2 atterraggio morbido 2 e ci spariamo 3 livelli con atterraggio morbido 3 perfetto poi abbiamo un saccheggio 3 e saccheggio 3 e la andiamo a mettere qua con saccheggio 3 10 livelli è vero perché ci andiamo a mettere pure saccheggio e affilatezza e vabbè 10 livelli li consumiamo signori per una signora spada e poi ci rimane un potenza impalamento un potenza e un indistruttibilità vediamo se riusciamo a avere altri libri di indistruttibilità signori contro il corpo fiamma efficienza potenza contro il corpo potenza perforazione protezione perforazione contro il corpo efficienza potenza e affinità all'acqua no non abbiamo altri libri di indistruttibilità che mettiamo qua sotto quindi dovremo un attimino sia fare un discorso di smeraldi signori per iniziare a mettere mending anche su questi pezzi dell'armatura così siamo un attimino più tranquilli però posso dire che un elmetto con respirazione 2 mi sta bene una corazza con protezione 4 mi sta decisamente meglio una protezione 3 sui gambali mi sta bene e un atterraggio morbido dobbiamo mettere un po' di protezione anche sulla testa e sui piedi però ci siamo signori è una spada con saccheggio 3 contro il corpo 2 affilatezza 4 e tanta roba per non dimenticare anche il piccone con fortuna ed efficienza 4 signori io allora per questo video mi potrei anche fermare decisamente sì abbiamo incantato un bel po' di cose sono soddisfatto e abbiamo anche la canna da pesca signore la canna da pesca non ce la dimentichiamo la canna da pesca con fortuna del mare ed esca 3 che io direi di andare a provare subito oddio sta un attimino calando la notte e le tenebre quindi diciamo che ce ne torniamo un attimino a dormire velocemente dopodiché con la canna da pesca la andiamo a provare qui nella nostra valle paludosa che comunque penso penso si possa pescare dico se faccio così io qualcosa pesco non ho bisogno per forza dell'oceano profondo è vero è giusto? dimmi che qualcosa pesco anche qui nella melma assoluta sì 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 vedo che si avvicina qualcosa sì ho pescato qualcosa signori cosa abbiamo pescato? un pesce palla perfetto ma abbiamo fatto il progresso il pesciolino palla l'abbiamo portato a casa signori che questo ci serve anche per le pozioni per le pozioni tra l'altro non avevamo trovato un alambicco noi sì da qualche parte avevamo trovato un alambicco forse l'abbiamo 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 ok abbiamo anche i pesciolini perfetto i pesciolini ci servono per i gatti per i gattini così riusciamo a addomesticarli a portarceli a casa però io vorrei qualcosa di più interessante di di ste cacate che ne so mi dai un bel libro con qualche incantesimo no mi dai continua a dare pesci mi continua a dare pesci va bene va bene signori allora io direi che per questo video potremmo anche fermarci qua abbiamo dato una svolta siamo decisamente più coperti domani 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 altri pesci domani signori noi torneremo dal nether ma non per andare al bastione perché dico mi è bastato mi è bastato ma voglio andare al livello meno 15 per vedere se riusciamo a trovare delle dangel and breeze là quei blocchi particolari per migliorare la nostra armatura perché noi siamo ancora nella versione 1.19.4 quindi funziona ancora alla vecchia maniera funziona ancora alla vecchia maniera ma ci lavoreremo ci lavoreremo detto questo signori fate via l'ultimo pesciolino niente stoppia solo pesci mannaggia a voi e a chi non ve lo dice pure solo pesci solo pesci va bene tira su sta canna va bene signori detto questo io vi ringrazio per questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui domani per un nuovo video bella raga ciao